Questo qua è stato un po' l'oggetto ispiratore del progetto, un po' l'oggetto simbolo del muratore, diciamo così, il piombo, da cui poi prende anche il nome della lampada, Aplomb. C'è anche una valenza più figurativa, no? Aplomb significa sicuro di sé, quindi è un oggetto che non ha nulla da dimostrare se non quello che è. Il progetto Aplomb nasce dall'utilizzo di un materiale alternativo, in questo caso parliamo di cemento, e la grossa difficoltà è stata quella di adattare questo materiale che normalmente viene utilizzato per grossi pezzi, pezzi da cantiere normalmente, a un pezzo invece molto delicato, molto semplice, piccolo. Il quale del progetto è stato proprio questo salto di scala. Qui abbiamo voluto fare un gioiellino di cemento, diciamo così. Il processo per arrivare al prodotto finito parte dai nostri disegni. C'è lo stampo, viene colato il materiale liquido, viene disarmato, viene estratto ed eventualmente finito. Normalmente il designer viene visto come colui che fa uno schizzo dopo di che non si interessa più del prodotto. La collaborazione con Foscarini e con questi artigiani è stata preziosissima, ci ha consentito di raggiungere il risultato. Solo noi non ce l'avremmo mai fatto. La collaborazione con Foscarini e con questi artigiani è stata preziosissima.